Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a parlare di sistema in-ear digitale. Quindi io ho provato questo KimaFan che ho acquistato qualche mese fa e in quel tempo, anche ultimamente ho visto che è stato molto molto pubblicizzato, sponsorizzato su YouTube tanti YouTuber ne parlavano, li usavano e mi sono fatto convincere io ho già uno sistema Sennheiser G3 con cui mi trovavo bene però avevo alcune cose che mi sarebbe piaciuto implementare, ho voluto provare e purtroppo devo dire che non mi sono trovato bene e non mi sento di consigliarlo. Questo perché? Perché è vero che ha alcuni pregi, tra cui anche il prezzo però purtroppo se si fanno dei concerti io ho bisogno di affidabilità e questo sistema purtroppo non riesce a darmela e adesso andiamo a vedere il perché. Allora, innanzitutto sono molto comodi questi però sono troppo leggeri, molta plastica anche i tastini sembra quasi che si stacchino poi è vero che funzionano però non mi danno l'idea di solidità. Vediamo prima le cose belle Allora, il sistema digitale per l'INIR mi permette di avere minor fruscio quindi in teoria in cuffia il suono è più pulito e senza disturbi, senza frusci e questo devo dire che in effetti è abbastanza vero nel senso che comunque il suono era bello pulito e senza fruscio. Il problema è quando non si parlano, quindi quando non riceve e ho visto che se proprio non era perfettamente dritto vicino se già lo tenevo in tasca non riusciva a vedere il ricevitore partiva un fruscio incredibile, fortissimo e questa cosa durante un live è assolutamente ingestibile quindi non è possibile utilizzarlo in maniera tranquilla in un live senza contare appunto che è tutto plasticoso quindi anche l'aggancio non è facile tu lo agganci ma rischia sempre di partire a me è anche partito alcune volte quindi cadendo nota positiva secondo me sono le cuffiette vengono date delle cuffiette insieme che tanti hanno definito come non un granché in realtà secondo me suona molto bene con il basso elettrico poi gonfia un pochettino il suono del basso però dà una piacevole sensazione se i suoni sono fatti bene comunque il suono è bello non è male altra cosa molto positiva era quella della ricarica rispetto al Sennheiser che ha le batterie devo cambiarle, ricaricarle, rimetterle e tutto questo qua ha soltanto un cavetto che si sdoppia USB molto veloce poi la ricarica dura molto tempo e quindi per quello va benissimo cosa negativa seconda cosa negativa il primo quindi che si stacca il segnale durante il live troppo facilmente seconda cosa negativa per cui secondo me non è proprio possibile utilizzarlo è il fatto che utilizzandolo con dei mixer digitali io ne ho usati due un QSC e un Soundcraft Wii 16 va in conflitto con il sistema del Wi-Fi perché lavora sulle frequenze simili quindi sui 2.4 GHz e quindi andando a bloccare di fatto l'iPad con cui gestiamo il mixer o con cui mi gestisco i miei ascolti e quindi va a impallare tutto il sistema e questo purtroppo non va bene il sistema Sennheiser o comunque altri sistemi lavorano su altre frequenze UHF e quindi non vanno a ad entrare appunto in conflitto con questi mixer la colpa certo può essere anche dei mixer però io ho già provato su due e soprattutto sul Soundcraft dava parecchi problemi facendo bloccare sempre il software può essere anche un problema del mixer è vero però il fatto che da quando ho messo ho provato questi near gli si è presentato molto più spesso questa cosa e quindi purtroppo ho paura che dipenda da questo quindi questi due fattori mi fanno purtroppo dire che non è utilizzabile se non in cameretta per fare qualche video per spostarsi così ma in un live dove io devo essere tranquillo pensare a suonare non devo avere fattori esterni che vadano a comunque a rovinarmi la serata perché poi ti fanno perdere la concentrazione questo certo con dei mixer vabbè con il QSC Kung un mixer da più di 1000 euro il Soundcraft da 500 euro però sono per sì live piccoli situazioni piccole magari su un mega palco grande la situazione di gestione con il mixer è diversa però comunque la ricezione anche lì purtroppo non è assolutamente all'altezza quindi quando ascoltate le video recensioni cercate di cercare di fare sempre un pochettino una tara vedere se anche chi purtroppo chi fa la recensione gliel'hanno regalato e ne deve parlare bene non lo so però o comunque vedere se ne parla per un uso casalingo oppure per un uso live il live è diverso purtroppo dall'uso casalingo bene la scatola però è molto bella noi allora ci vediamo al prossimo video io mi sono tornato con il mio sistema Sennheiser acquistato usato e continuerò a utilizzare questo grazie e noi ci vediamo al prossimo video ciao presto Carlo